Dedicatevi alla preghiera, sforzatevi di sentire il bisogno di pregare più volte al giorno. La preghiera allarga il cuore fino a renderlo in grado di contenere il dono che Dio ci fa di se stesso. Cercate e chiedete e il vostro cuore diventerà abbastanza grande da riceverlo e da conservarlo come vostro proprio. Il vostro cuore diventerà abbastanza grande da riceverlo e da conservarlo in grado di contenere il dono.